Per la lasagna classica di Modena, pasta all'uovo con l'aggiunta di spinaci, in modo da fare una sfoglia verde. Poi va preparato un ragù, carne di maiale, salsiccia, sedano, carota e cipolla, concentrato di pomodoro, vino rosso e viene fatto il ragù classico, con un paio d'ore di cottura. Poi viene fatta la besciamella, ogni litro di latte, 100 grammi di burro e 100 grammi di farina e poi viene assemblato in tutto, strati di besciamella, ragù, parmigiano reggiano, infornato a 180 gradi per un'ora circa.